Da un punto di vista energetico il chakra del cuore rappresenta quella porta, quella dimensione che ci permette di vivere l'amore, ci permette di attrarre l'amore. Ovviamente amore inteso come amore universale che poi può tradursi nell'amore verso un partner, nell'amore verso l'umanità, verso un amico, verso chiunque, verso tutti, verso tutti gli esteri senzienti comunque. E la possibilità anche di attrarre l'amore di tutte le persone verso noi stessi. Quindi sbloccare l'energia al chakra del cuore ci permette di vivere in armonia fondamentalmente, anche con noi stessi, perché in primi stanza dobbiamo imparare ad amare noi stessi e poi ad essere amati e ad amare gli altri. Nel chakra del cuore confluiscono tre canali energetici fondamentali, il canale centrale lungo la colonna vertebrale e i due canali laterali che formano due nodi proprio al chakra del cuore e se le energie dei canali laterali che rappresentano l'energia maschile e l'energia femminile e quindi l'attrazione nella versione sono eccessivamente forti vanno a creare uno strozzamento, un blocco proprio al chakra del cuore. Per liberarlo in meditazioni si deve far confluire l'energia maschile e l'energia femminile nel canale centrale. Ma procediamo attraverso questa meditazione tenendo conto che l'energia maschile viene rappresentata di colore bianco ed è un'energia che dall'alto scende verso il basso, un'energia se vogliamo dire fredda, mentre l'energia femminile che si rappresenta attraverso il colore rosso è un'energia che dal basso sale verso l'alto e rappresenta un'energia calda. Queste due energie, il maschile e il femminile, incontrandosi al chakra del cuore, lo sbloccano energeticamente. Tutto questo deve essere svolto in meditazione, per cui ti chiedo di sederti in una posizione comoda ma con una schiena retta. Molto importante che tieni una schiena retta. Schiena retta ma non tesa, le spalle rilassate, le braccia rilassate e poi puoi chiudere tranquillamente gli occhi. Una volta che sei con gli occhi chiusi e ascolti il suono della mia voce e respiri tranquillamente, inizia a portare la tua attenzione sul respiro, sull'aria che entra e che esce dai tuoi polmoni, rendendoti conto che ad ogni respiro ti rilassi sempre di più, ti rilassi sempre di più. Il tuo corpo può diventare pesante, sempre più pesante e rilassato. Puoi renderti conto del peso del tuo corpo, del peso delle tue braccia, del peso delle tue gambe, sentire i punti di contatto del tuo corpo sulla sedia e il tuo corpo diventa sempre più pesante e rilassato. E adesso che il tuo corpo è sempre più pesante e rilassato, ti chiedo di immaginare sul tuo capo una goccia di energia di colore bianco. Questa energia di colore bianco sopra il tuo capo rende il tuo capo sempre più caldo. Puoi portare l'attenzione mentale sul tuo capo e sentire la temperatura di questa energia di colore bianco. Puoi immaginarla come una sfera. E adesso piano piano, mentre continuo ad ascoltare il suono della mia voce, lascia che questo calore diminuisca sempre di più, come se fosse assorbito dalla sfera stessa. Il calore diminuisce sempre di più, diminuisce sempre di più, fin tanto che la sfera inizia a diventare fredda e il tuo capo inizia a diventare sempre più fresco e la tua mente diventa sempre più fresca. Come se un vento gagliardo soffiasse sulla tua mente, sul tuo capo, rendendolo sempre più fresco. E non appena il tuo capo diventa fresco, questa sfera di colore bianco, quasi come se fosse una palla di ghiaccio, scende verso il basso, attraverso la spina dorsale e si ferma all'altezza del tuo cuore. Si ferma all'altezza del tuo cuore. E adesso puoi portare la tua attenzione al primo chakra, alla base della tua colonna vertebrale. E puoi immaginare una sfera di colore rosso, che rappresenta l'energia femminile. E questa sfera di colore rosso, inizialmente fresca, diventa sempre più calda, sempre più calda, come se un fuoco inesauribile la scaldasse sempre di più. Puoi vedere questa sfera diventare sempre più calda, quasi incandescente, sempre più calda, sempre più calda. Puoi sentire il calore di questa sfera che dal basso si emana sul tuo corpo salendo verso l'alto. E ti chiedo adesso di immaginare che questa sfera calda attraverso la tua colonna vertebrale salga verso l'alto, fino a fermarsi all'altezza del tuo cuore, al di sotto della sfera di colore bianco. E adesso porta l'attenzione mentale al tuo cuore. Visualizza le due sfere, la sfera di colore bianco sopra, la sfera di colore rosso sotto. L'energia femminile sotto, l'energia maschile sopra. L'energia femminile rossa, l'energia maschile bianca. Adesso concentra tutta la tua attenzione sul tuo cuore e mentre fai un respiro profondo fai fondere completamente queste due sfere nel tuo cuore, bloccando completamente l'energia, rendendo il canale centrale all'altezza del tuo cuore completamente libero. Queste due sfere si fondono assieme e liberano completamente il canale centrale in modo tale che l'amore possa scorrere, l'energia dell'amore, l'energia dell'amore universale possa scorrere liberamente attraverso il canale e possa attrarre amore nella tua vita. Amore verso tutti gli esseri senzienti e in modo tale che tu possa ricevere e dare amore a tutti gli esseri senzienti. Una volta che hai fatto tutto questo e che hai liberato completamente il canale centrale, puoi immaginare nuovamente che la sfera di colore bianco ritorni al capo, la sfera di colore rosso ritorni alla base della colonna vertebrale. Dopo che hai immaginato questo, fai tre profondi respiri, trattenendo alcuni istanti l'aria e poi espirandola fuori fino in fondo con la bocca. Al termine di questi tre respiri, puoi iniziare a muovere le braccia, le gambe, il capo e infine puoi aprire gli occhi. Questo lavoro è un lavoro molto importante perché ti permette di sbloccare energeticamente il chakra del cuore permettendo all'energia dell'amore di fluire liberamente. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!